Rimandato alla settimana prossima il presidio degli ambientalisti lucani e calabresi per bloccare camion diretti agli impianti di trattamento rifiuti di San Sago. L'animatore della protesta, Olderico Pesce, noto attore e regista di teatro lucano, informa che l'autorizzazione della questura di potenza non è giunta, per cui tutto si svolgerà tra qualche giorno. Il presidio era in programma questa mattina direttamente sul Ponticello, a ridosso della centrale Enel che, secondo quanto sostenuto dai contestatori, non avrebbe il collaudo per il passaggio dei mezzi pesanti. Un pretesto, questo, per ostacolare l'attività del privato ritenuta inquinante. Un pretesto che, martedì 30 agosto, sarà soggetto a una verifica a cura di un team del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, richiesta, come informa la struttura regionale stessa, dal sindaco di Trecchina, Ludovico Iannotti, in quanto l'ufficio tecnico trecchinese non ha inorganico tecnici abilitati per tale verifica. Il sopralluogo di martedì, chiariscono inoltre dal Dipartimento regionale, non potrà comunque essere esaustivo per accertare l'idoneità del sovrappasso, che, a suo tempo, è stato realizzato dall'Enel. Potrebbe essere necessario effettuare uno studio della statica dell'opera, con carotaggi ed altri esami per i quali serviranno tempi lunghi. Resta in piedi, comunque, l'appuntamento di domenica 28 agosto a Rivello, in piazza Umberto I, quando lo stesso pesce proietterà un documentario dal titolo Agonia di un fiume, con immagini, anticipa pesce, di denuncia degli illeciti compiuti negli impianti di Sansago e nei terreni circostanti. Di contro, la proprietà degli insediamenti ha ribadito ad organi di stampa Lucani la propria linea difensiva, sostenuta tempo fa anche attraverso questa emittente. Qui è tutta la luce del sole, hanno dichiarato i responsabili degli impianti, e chiunque può venire a verificare in qualsiasi momento. Pur se autorizzati, ha precisato l'amministratore unico, Deborah Plastina, non trattiamo rifiuti pericolosi.